Questa notte i carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro, unitamente ai colleghi del gruppo di intervento speciale dallo squadrone li portato carabinieri cacciatori Calabria, hanno localizzato e arrestato il latitante Gallace Cosimo Damiano, un esponente di spicco, il reggente dell'omonima Cosca Gallace, operante nella zona di Guardavalle. Il latitante è stato localizzato all'interno di un complesso, di un'azienda dedita alla produzione di calcestruzzo nel comune di Isca sullo Ionio e all'arrivo dei militari era insieme alla famiglia, moglie e figlia, è andato a nascondersi all'interno di un bunker che è stato scoperto poi a seguito di una profondita perquisizione. Era nascosto all'interno di un'intercapedine ricavata su una falsa parete che era la cui porta si apriva azionandola con un pomello girevole presente su un attaccapanni vicino alla specchiera che era sopra questa porta. All'interno del bunker il latitante aveva con sé un trolley con 35.000 euro in contanti, un tablet, varie schede telefoniche ancora non attive e telefoni cellulari, non ha opposto resistenza, si è consegnato e deve scontare ora una pena a 14 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, quale reggente in questo momento anche della Cosca Gallace. La Cosca Gallace è una cosca molto importante ed influente all'interno del panorama dell'Andrangheta e oltre ad essere operante in guardavalle, anche in alcuni comuni dello basso ionio catanzarese e dell'alto ionio reggino. In più ha dentellati anche in Lazio, a Danzio, a Nettuno e in altre città del nord-centro Italia. La cattura di latitanti è uno degli obiettivi principali per la lotta alla criminalità organizzata e all'Andrangheta. La presenza di latitanti liberi sul territorio è un segno di forza per l'organizzazione criminale, invece oggi abbiamo dato un segno di forza da parte dello Stato e della giustizia. La cattura dei latitanti unitamente all'aggressione ai patrimoni criminali e al controllo del territorio rappresentano sicuramente la strategia vincente per combattere la criminalità organizzata. Grazie a tutti.